finalmente ragazzi questo video collezione è pronto io sono valerio e bentornati sul mio canale questo video ragazzi è il mio modo per dirvi grazie per avermi aiutato a raggiungere e a superare abbondantemente i 500 iscritti questo ripeto è il mio modo per dirvi grazie spero che questo video vi piaccia ci ho messo tutto me stesso voi comunque scrivetemi nei commenti tutto quello che volete se il video vi è piaciuto se il video non vi è piaciuto curiosità qualsiasi cosa me la scrivete nei commenti io ragazzi non mi perderei in ulteriori chiacchiere vi ringrazio nuovamente e niente ragazzi godetevi il video buona visione partiamo subito ragazzi perché le cose da mostrarvi sono davvero tante quindi io partirei prima con alcuni cofanetti poi vi faccio vedere alcuni film legati ai supereroi e poi qualche titolo qualche cosa diciamo tra i miei preferiti io partirei subito con questo cofanetto ovvero il signore degli anelli la trilogia cinematografica adesso vi faccio vedere la compagnia dell'anello e il suo disco le due torri e il disco con i contenuti extra e poi abbiamo il ritorno del re e i contenuti extra questo non ve l'avevo mai fatto vedere questo è un bel pezzo ce l'ho da davvero tanto tempo poi abbiamo già che ci sto ve li faccio vedere per chi magari si è perso il video di natale abbiamo l'hobbit la versione estesa quindi la battaglia delle cinque armate la desolazione di smaug e un viaggio inaspettato in alta definizione versione estesa questo ve l'avevo già mostrato nei video di natale però ovviamente magari c'è chi mi segue da meno tempo e se lo è perso poi proseguiamo con i cofanetti abbiamo il cofanetto di batman con all'interno i due film di tim barton poi abbiamo batman forever e batman e robin cofanetto molto semplice ragazzi infatti all'interno ha solo i film solo i quattro film poi abbiamo un altro cofanetto questa volta di un altro grande eroe della dc ovvero superman all'interno abbiamo cinque film dedicati a superman di cui i primi quattro ovviamente sono con christopher reeve nei panni di superman e il quinto film ragazzi è il superman con brandon root che è stato un grandissimo flop purtroppo non per l'attore perché io lo reputo un grandissimo attore molto molto bravo però il film era veramente povero di contenuti una trama davvero sciocca peccato poi abbiamo jurassic park collection altro bel cofanetto all'interno abbiamo jurassic park il mondo perduto jurassic park 3 e questo scempio di film quando ero piccolo andavo pazzo per questa trilogia i primi tre si salvano tutti ovviamente da qui compreso in poi io non li conto neanche i primi tre sono quelli che portano il cuore poi vediamo cosa posso farvi vedere mad max anthology questo anche un gran bel pezzo all'interno abbiamo interceptor il secondo film interceptor il guerriero della strada poi abbiamo mad max ovvero il terzo capitolo oltre la sfera del tuono in più abbiamo un quarto film con mad max fury road fury road ragazzi è un film assurdo un'esplosione di colori un viaggio bellissimo poi vabbè tomardi ragazzi che ve lo dico a fare ecco qua abbiamo i tre film poi abbiamo fury road e poi abbiamo un altro disco con i contenuti speciali questo è un bel pezzo questo l'ho preso appena uscito praticamente il film appena uscì mad max fecero questo cofanetto che però io comprai dopo perché andai subito da euronics a comprare questa versione ovvero la faccio vedere subito abbiamo il film normale e il film in 3d di mad max fury road poi successivamente usci questa ragazzi l'ho comprate tutte e due che devo fare a me piace troppo sono film veramente immortali mad max al tempo anzi interceptor film girato con tre spicci è stato un capolavoro poi vediamo cosa posso farvi vedere abbiamo questo cofanetto qui la leggenda di raul l'ultimo dominatore del cielo questo ragazzi l'ho trovato a 5 euro in un mercatino assurdo all'interno abbiamo tre dischi con la serie completa ma la cosa figa non è tanto la serie che si è bella per carità ma è questa dicitura qui che adesso vi mostro booklet con schede personaggi disegni preparatori e colori che adesso vi vado a mostrare eccolo qui guardate che bello i disegni sono uno spettacolo ragazzi ripeto io l'ho pagato 5 euro di che anno devo recuperarli in blu ray devo recuperare un sacco di film perché ce li ho in dvd ma in blu ray ancora non l'ho recuperati mi devo rimettere in pari guardate qua in più penso già solo questo libricino vale 5 euro ce li vale proprio tutti guardate che belli ci sono tutti i personaggi abbiamo il cofanetto della prima stagione di flash che a me è piaciuta molto molto semplice come serie ma molto molto bella abbiamo la prima stagione completa che è composta da quattro dischi la cosa carina è che qui vi dice tutti i capitoli e anche dall'altra parte questo flash ovviamente fa parte della rovers progetto secondo me riuscito alla grande e piano piano devo rimettermi in pari anche qui con le uscite perché sì che l'ho viste tutte però non sono riuscito a prenderle tutte in blu ray poi vi faccio vedere la prima stagione completa di gotham dal mio punto di vista un grandissimo flop io ho visto le prime due puntate con interesse poi dopo la cosa è andata scemando perché non non sono riuscito a farmela piacere non capisco perché di tutti i personaggi di cui dispone la dc comics abbiano dovuto inventarne degli altri per far andare questa serie che poi vabbè è stato quello che è stato quindi già lì ho sfrotto un po il naso poi trame troppo complesse che non avevano né capo né coda ve lo faccio vedere i colori le ambientazioni molto belle poi ci sono degli attori veramente forti però troppo ragazzi doveva essere qualcosa secondo me molto più minimale poi vi faccio vedere la prima bellissima stagione di true detective con matthew mcconaghy e woody harrelson questa ragazzi l'ho trovata sempre al mercatino vabbè il grosso lo compro sempre lì lo sapete stagione composta da otto episodi e tre blu ray credo che questa di true detective sia la stagione più bella veramente mi ha appassionato e me la sono sparata tutta in una volta mi sono messo lì la sera e mi sono visto tutti gli otto gli episodi due attori incredibili che hanno fatto veramente un'interpretazione che fa paura e quindi ragazzi questa merita veramente se riuscite a recuperarla magari la trovate anche a 5 euro al mercatino non lo so alcuni dei costi che trattano l'usato prendetela e recuperatela abbiamo la Clint Eastwood Collection pagata ragazzi 5 euro e sto vedendo che su Amazon la vendono a 38 all'interno abbiamo tre grandi film del mitico Clint Eastwood questo è un gran bel pezzo ragazzi non solo perché l'ho pagato 5 euro che sarebbe nulla 5 euro per tre film e vedo che su Amazon ripeto lo vendono a 38 Clint ragazzi è un pezzo veramente di storia del cinema sono un po' indeciso ragazzi non so cosa farvi vedere perché c'è tanta roba quindi io direi facciamo vi mostro i film sui supereroi che so che piacciono molto quindi DC e Marvel partiamo dalla DC che ne ho molti meno quindi vi faccio vedere questo scempio di film Justice League questa era Justice League di Weedon ragazzi io adesso spaccherei in diretta però non mi va di fare queste scene dopo aver visto la Snyder Cut è inevitabile guardare con odio questo film l'ho preso al negozio del mio amico Stefanone ovvero la lanterna del nerd mi hanno fatto un super prezzo include scegli inedite ma io non ho mai avuto il coraggio di guardarlo perché mi è bastato vederlo al cinema eccolo qua molto semplice solo il disco e vabbè lo rimetto a posto ragazzi non mi fate parlare di questo film ne ho parlato abbondantemente sul canale poi abbiamo Batman contro Superman Dawn of Justice anche di questo film ragazzi ne abbiamo parlato tanto film che aspettavo da anni una volta in sala sono rimasto molto deluso si collega abbastanza bene alla Justice League ovviamente di Snyder questa versione in Blu-ray contiene due ore di contenuto speciale poi vi faccio vedere dai la roba Marvel lo so che vi piace ve la faccio vedere vi mostro Captain America il primo vendicatore limited edition in 3D all'interno c'è un sacco di roba abbiamo la copia digitale poi abbiamo il film in 3D film in Blu-ray e contenuti speciali questo però non l'ho preso al mercatino è un mercatino difficile che si trova roba così poi The Winter Soldier film molto molto bello io credo il più sottovalutato del Marvel Cinematic Universe ma allo stesso tempo uno dei più belli veramente bello ragazzi nulla da dire uno di me preferiti in assoluto se parliamo di Marvel Cinematic Universe cioè non sembra neanche un film sui supereroi è qualcosa che va proprio oltre molto molto bello qui abbiamo il film in 3D e il film Blu-ray normale gran bel film ragazzi molto bello per quanto è sottovalutato poi abbiamo i Guardiani della Galassia sempre in questo cofanetto Blu-ray 3D film che mi è piaciuto davvero tanto qui abbiamo la copia 3D e qui abbiamo la copia normale questo è un film che mi è piaciuto davvero tanto ragazzi i Guardiani sono divertentissimi è davvero un mix perfetto tra azione e divertimento poi ho anche il secondo capitolo da qualche parte eccolo qua no si eccolo questo molto semplice con il disco in Blu-ray e aspettiamo il terzo ragazzi poi abbiamo Thor che ha una trilogia tutta sua ma è qualcosa di tremendo la trilogia su Thor possiamo dirlo diciamo che l'unico che salva è appunto proprio il primo non che sia qualcosa di eccezionale però è meglio degli altri due sicuramente Thor ce l'ho anche in versione limited edition eccola qua questa bella versione all'interno abbiamo film in 3D film in Blu-ray e contenuti speciali questo è pure un bel pezzo questo l'ho pagato 5 euro in un negozio delusato tipo mercatino poi salvando solo il primo come film ci sta ad averlo in doppia copia in doppia copia ho anche Captain America che vi ho fatto vedere prima in questa edizione eccolo qua le mettiamo a confronto e ce l'ho anche così questo è proprio il film classico disco singolo poi vediamo un attimo cosa ho Avengers il primissimo Avengers di quel bastardo di Whedon anche questo disco singolo film che ha invecchiato abbastanza maluccio l'ho visto di recente mamma mia fa ridere poi vediamo Black Panther film che mi è piaciuto davvero tanto bellissimo molto molto bello cast bello ricco ecco qua disco singolo vi siete fatti qualche idea ragazzi su chi sarà il prossimo Black Panther io in tutta onestà no non me ne sono fatto un'idea però è un vero peccato abbiamo perso molto grande attore grande persona grande uomo poi Doctor Strange film che mi è piaciuto tantissimo davvero davvero tanto nonostante il buon Benedict non mi sta simpatico come attore cioè non è che non lo posso vedere lui mi sta proprio sul cazzo in una maniera incredibile però il film mi è piaciuto molto 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 bello questo disco singolo e adesso aspetto il sequel X-Men le Origini che ovviamente non fa parte del Cinematic Universe ed è un film ragazzi che vabbè ci siamo fatti più risate che risate su sto film trovato ovviamente al mercatino ti va un euro un euro si può portare a casa tranquillamente poi abbiamo Ghost Rider ragazzi ma ma voi ce lo vedete Nicolas Cage nei panni del Ghost Rider ragazzi miei cioè di tanti attori Nicolas Cage boh vabbè contenti voi Ghost Rider anche in Extended Cup non ci facciamo mancare nulla noi poi vediamo il film che ha dato inizio al Marvel Cinematic Universe Iron Man che dire di questo film ragazzi il film è bellissimo il primo come è bellissimo anche il secondo che adesso vi vado a mostrare in questa versione doppio disco Blu-ray più DVD Iron Man 2 ragazzi forse mi piace anche più del primo molto molto bello forse perché introducono anche War Machine il terzo non solo non ce l'ho ma non l'avrò neanche mai cioè uno di quei film che mi ha fatto veramente cagare brutto 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 di quel film potremmo parlarne veramente per ore ma mi rifiuto mi va bene così uno scempio di film di cui non voglio neanche parlarne poi vediamo ah eccolo neanche mi ricordavo di averlo The Dark World sempre di Thor secondo capitolo qualcosa di osceno edizione a disco singolo lo rimettiamo a posto non ci spreco neanche tre parole su sto film poi abbiamo un film che invece mi ha sorpreso molto non gli dava una lira invece è bello bello davvero questa edizione disco singolo però un bel film ragazzi poi rimanendo in tema supereroi ah ecco abbiamo anche il primo di Ant-Man dopo aver visto il primo ho detto vabbè un po' fiacco come film secondo non gli dò una lira invece è stato molto carino vi faccio vedere anche questo che è a disco singolo poi vediamo che ho paura di perdermi qualcosa della Marvel eccoli qua abbiamo il primo di Amazing Spider-Man il primo capitolo e il secondo di Amazing Spider-Man 2 il potere di Electro peccato per il terzo ragazzi sarebbe stato veramente un gran bel film eccolo qua disco singolo e dovrebbe essere a disco singolo anche il secondo capitolo peccato ragazzi perché stava prendendo una piega molto molto interessante sarebbe stata una grande trilogia adesso vi faccio vedere due film della DC che mi erano sfuggiti prima e che mi sono piaciuti tantissimo Wonder Woman uno dei migliori della DC Comics molto molto bello anche qui include una scena inedita questo l'ho preso sempre dal negozio di Stefanone la lanterna del nerd edizione disco singolo poi abbiamo Aquaman edizione disco singolo preso sempre al negozio del mio amico Stefano e questo ragazzi è un gran bel film niente da dire è molto stile Marvel diciamo non sembra neanche un film della DC carino davvero bello poi vediamo un attimo ah no scusate mi era sfuggito Logan bellissimo film con cui Hugh Jackman lascia il ruolo di Logan film molto bello ispirato a Old Man Logan e devo dire che questo è un film molto molto bello me lo sono davvero gustato poi abbiamo La vendetta del caduto in queste versioni è lo stesso film ma in versione diversa disco singolo che poi ragazzi credetemi è stata una casualità perché io avevo avevo già questa qui di versione e non mi ricordavo di averlo proprio come film andando al mercatino ho trovato questo a un euro e l'ho comprato e a casa poi mi sono ritrovato così quindi tutto sommato non mi ha detto neanche male Tartaruga Ninja il supereroe delle Tartaruga Ninja ragazzi in questa versione Blu-ray 3D e Blu-ray normale film che mi aspettavo un po' meglio però col secondo si erano ripresi bene peccato anche qui non aver visto un terzo secondo me potevano chiudere tranquillamente la trilogia anche perché nel secondo film si sono rilanciati bene quindi il terzo sarebbe stata una trilogia che andava a crescere abbiamo Assassin's Creed questa versione 4K Ultra HD versione doppio disco io non sono mai stato un grosso fan del gioco devo dirvi la verità ho giocato solo al primo quello con Altair molto bello poi non lo so non è mai sbocciato l'amore il film mi piace mi è piaciuto però non essendo appassionato a una valenza diversa se il film è fatto bene o male ve lo dovrebbe dire uno che comunque ha giocato parecchio al videogioco io purtroppo non ci ho giocato tanto quindi visivamente è bello un bel film però ripeto non ho quel background da giocatore di Assassin's Creed però vabbè vi posso dire comunque un bel film poi voi mi direte la vostra nei commenti se l'avete visto e mi direte cosa ne pensate poi abbiamo ragazzi la trilogia di Nolan dedicata a Batman questa qui è in versione disco singolo Batman Begins poi abbiamo questa che è fantastica con il Joker in copertina edizione due dischi che vabbè sono passeschi poi abbiamo il terzo film che a me è quello che è piaciuto di meno cioè non è che mi è piaciuto di meno non mi è proprio piaciuta anche questa versione doppio disco e copia digitale tutto sommato bene ragazzi perché Nolan non lo scopriamo oggi Nolan è un grande professionista regista della Madonna e ha rilanciato Batman in un periodo in cui erano anni che non si vedeva Batman al cinema quindi grazie per quello perché ha rilanciato un supereroe amatissimo però questo potevamo spenderci un po' di più ci siamo un po' sprociuttati su questo film poi vediamo Total Recall questo io non mi ricordo se l'ho comprato quando sono andato in America vi dico la verità non mi ricordo mica perché questo è questa è la versione in lingua originale tutto scritto in inglese e io non mi ricordo se l'ho comprato a Londra quando sono andato a Londra o quando sono andato a Chicago boh non mi ricordo proprio ragazzi poi abbiamo ragazzi Hitman questo me l'ha portato mia sorella dalla Francia bello vecchiotto compatibile Playstation 3 stiamo parlando di un bel po' di tempo fa e non l'ho mai aperto vedete è ancora sigillato perché me l'ha comprato ma io l'avevo già visto me l'ero comprato in DVD e poi vabbè ci giocavo da regazzina Hitman sulla Playstation e quindi però non l'ho mai scartato perché dico che lo apro a fare tanto ce l'ho però vabbè sai che facciamo ragazzi ce lo scartiamo adesso insieme dai non so neanche quanti anni è che sta chiuso così adesso ce l'apriamo insieme e vediamo anche dentro dai diamo pure soddisfazione a mia sorella che me l'ha regalato vediamo un attimo edizione disco singolo sì eh stiamo parlando di un bel po' di tempo fa ragazzi guardate i titoli Jumper Your Robot Die Hard 4 Alexander Into the Wild Taxi Transporter Danny the Dog molto bello ce l'ho in DVD Alien vs Predator che spettacolo ragazzi mi avete fatto aprire anche il Blu-ray questo lo volevo tenere sigillato invece lo sono andato ad aprire dai ho fatto questo regalo poi che abbiamo di bello o di brutto vediamo perché c'è un po' di tutto mi mancano un po' di cose da farvi vedere un po' tante abbiamo Tron Legacy film che mi è piaciuto molto sappiamo che c'è anche il secondo che sta per uscire in questa versione con copia digitale Blu-ray One Piece Gold versione disco singolo non è un film che mi ha fatto impazzire però tutto sommato carino lo trovate anche su Netflix credo se non mi ricordo male poi abbiamo Mission Impossible 1 2 3 e Protocollo Fantasma questo per assurdo non è un genere che mi piace anzi tutt'altro eppure Mission Impossible a me piace davvero molto poi Tom Cruise a me piace tantissimo come attore davvero bravo però boh è strana sta cosa che solitamente non sono film che mi piacciono poi abbiamo Boyhood pagato un euro ragazzi e che fai non te lo porti a casa per un euro poi abbiamo ragazzi 21 che è un gran bel film ispirato a una storia vera tra l'altro con Kevin Spacey che ormai non si vede più da anni Lawrence Fishburne in questo caso non è sul poker il film ma sul blackjack io sono un giocatore di poker mi piace tantissimo e devo dire che questo è un bel film anche se ripeto non c'entra col poker però io adoro i giochi di carte quindi tutti i film legati a quel genere mi piacciono poi abbiamo due entrate fresche ragazzi perché l'ho presa settimana scorsa L'Uomo Senza Ombra con Kevin Bacon e poi abbiamo la Directors Cut di Wolfman edizione disco singolo un film che mi è piaciuto molto davvero bello anche questo disco singolo questi li ho presi settimana scorsa ma ha un preço veramente stupido ragazzi ormai te li tirano dietro i Blu-ray non è più come qualche tempo fa a proposito di horror ma vabbè questo con l'horror non c'entra proprio nulla almeno questa versione non aprite quella porta a me piace quella vecchia ragazzi non so se ve la ricordate quella proprio vecchia girata con 30 dollari questa è la versione disco singolo con Jessica Biel che alla fine ci ha messo 30 anni a diventare un'attrice come si deve ma meglio tardi che mai poi abbiamo ragazzi questa versione disco singolo The Boy 2 della Midnight Factory che fa sempre delle copertine della Madonna e poi abbiamo un film che devo ancora vedere You're Next quindi boh non vi saprei dire non l'ho neanche mai aperto gli ho solo levato la pellicola quindi questo è da vedere poi diciamo che con l'horror messo tra molte virgolette abbiamo finito qua perché non sono amante dell'horror quindi non mi frega proprio nulla di averli in collezione Minority Report con Tom Cruise vabbè ve l'ho detto che è un attore che mi piace tantissimo poi mi piace molto questo genere di film per assurdo Minority Report è tra i miei film preferiti come anche che ve lo dico a fare Casino Robert De Niro Joe Pesci che altro dire devo recuperare quei bravi ragazzi in Blu-ray ce l'ho solo in DVD quello è il film è il capolavoro poi un altro film che a me piace molto cioè non è che mi piace molto è tra i miei preferiti Wall Street con Michael Douglas che interpreta il ruolo di Gordon Ghecco film che ha vinto anche l'Oscar nell'87 e se l'ha giudicato questo signore qui un altro pezzo di storia del cinema Michael Douglas poi abbiamo Fox Catcher film molto molto bello candidato a 5 premi Oscar basato su una storia vera Channing Tatum Steve Carell Mark Raffalo ragazzi al top ma quello che a me ha stupito è Steve Carell vederlo in questa veste ragazzi è stato veramente non lo so ma mi ha messo proprio angoscia ha fatto un lavorone poi abbiamo e questo succede quando non aggiorni le liste ce l'ho così ragazzi è lo stesso identico film uno l'avevo comprato tempo fa mi sono dimenticato di aggiornarlo in collezione e andai a un mercatino lo trovai un euro e l'ho ricomprato poi abbiamo Pacific Rim film molto bello il secondo boh mi ha lasciato un po' così speravo meglio questa è un'edizione doppio disco poi abbiamo America Sniper con Bradley Cooper tratto da una storia vera edizione disco singolo più copia digitale film bellissimo ragazzi mi ha stupito veramente la regia di Clint Eastwood molto molto bello come anche molto bello è Elysium da regista di District 9 altro filmone di fantascienso incredibile Matt Damon come protagonista bel film d'azione fantascienza ci sta ci sta tutto Lock Out ve ne ho già parlato con Guy Pearce molto molto bello edizione integrale ma a disco singolo poi abbiamo Robin Hood la director's cut con Russell Crowe in edizione doppio disco bel film Dracula Untold ragazzi io non ho capito perché tutti dicono questo film non si può vedere è un film che ha floppato a me è piaciuto tantissimo davvero davvero bello ragazzi non ho nulla da dire a questo film pensate che io l'ho visto in aereo nel volo che mi ha portato poi a Chicago volo di 12 ore quindi mi sono visto 200 film tra cui Dracula Untold e a me è piaciuto molto ragazzi che vi devo dire non so perché dicono che sia un flop non credo sia assolutamente un flop anzi poi abbiamo Creed 2 che ragazzi io sto film non l'ho capito il primo era piacevole molto molto carino il secondo boh ragazzi che vi dico non lo so non mi ha fatto un passiere non è un titolo che ho apprezzato ecco mettiamola così Notting Hill ragazzi lo conosciamo tutti poi sono fan di Hugh Grant questa versione disco singolo Fast and Furious il primo indimenticabile Fast and Furious che dire quanti ricordi ragazzi facevo il primo liceo forse la terza media quando è uscito questa è un'edizione speciale due dischi di Indiana Jones e il Regno di Cristallo film che sì non era all'altezza degli altri però non è neanche un brutto film è brutto se paragonato agli altri poi abbiamo Rampage Furious un film action con The Rock carino niente di che ma molto carino sapete quando avete quella serata che magari state lì sul divano che volete vedere un film senza troppe pretese che non volete starci troppo dietro questo potrebbe essere il film che fa il caso vostro poi abbiamo King Arthur con Charlie Hunnam un grandissimo Charlie Hunnam un grande attore Jude Law altrettanto grande questa edizione disco singolo un altro film che purtroppo ha flopato ragazzi ma non me lo spiego perché questo era veramente un bel film dicevano che vorranno farci addirittura una trilogia però per come è andata si sono fermati e non hanno più voluto saperne peccato peccato perché è un film che io ho trovato molto gradevole poi Quentin Tarantino presenta L'uomo con i pugni di ferro cast molto ricco Russell Crow Lucy Liu Battista ragazzi che voi lo conoscete come Drax nei film della Marvel si vede che c'è l'impronta di Tarantino però non è un film che mi ha lasciato chissà che cosa carino un bel titolo ma niente di che trovato a 2 euro in un mercatino a 2 euro ragazzi va bene di più non ci spendete abbiamo Australia con Nicole Kidman Hugh Jackman film molto bello ma anche molto molto lungo me lo ricordo come una roba infinita ma non lo so magari ricordo male però era molto molto lungo però bello un bel film questo è un film molto bello ragazzi film a cazzuto veramente Death Race con Jason Statham in questa versione stesa di questo film hanno fatto anche una trilogia solo che Jason Statham sta solo nel primo film non mi chiedete perché infatti il primo rimane il più bello poi abbiamo La Ragazza di Fuoco ovviamente stiamo parlando di Hunger Games e Il Canto della Rivolta parte 2 io queste le voglio tutti ragazzi anche perché ho visto solo il primo purtroppo poi abbiamo Animali Fantastici e Dove Trovarli il primo film è uscito anche il secondo che potete trovarlo su Netflix edizione doppio disco blu-ray 3D e ragazzi non prendete da male ma io non l'ho ancora visto lo devo ancora vedere anche perché devo approfittare che il secondo lo trovo su Netflix quindi questo me lo vedo sti giorni e poi passo a Netflix un altro film d'azione molto carino Real Steel con Hugh Jackman diciamo la box nel futuro mettiamola così molto carino anche questo è un film che ovviamente ragazzi non è che ha chissà quale pretesa però per un sabato sera tranquillo passato sul divano va più che bene poi abbiamo Baywatch con Zac Efron e The Rock in questa versione stesa il film è giusto per farsi due risate pagato una cazzata ci sta poi scontro tra titani che include una versione alternativa ovvero il finale alternativo edizione doppio disco che ragazzi devo ancora vedere vi dico la verità cioè non è che non ho visto il film scusate non ho visto questo finale alternativo il film mi è piaciuto molto le cose da fare sono tante non è come stare purtroppo appresso a tutto è impossibile vi mostro il fondamentalista riluttante film che ho comprato settimana scorsa ispirato all'omonimo best seller internazionale gran bel film gran bel cast cast molto ricco questo film ragazzi è assurdo sono risate assicurate Jonah Hill James Franco Emma Watson qualcosa di veramente veramente divertente edizione disco singolo ragazzi recuperatelo io non so se lo trovate nei vari store digitali o Netflix o Amazon Prime ma se lo trovate recuperatelo veramente un film che vi fa ammazzare da ridere poi Alpha Dog ispirato a una storia vera gran bel film cast ricchissimo edizione disco singolo Dan Foster Sharon Stone Justin Timberlake Bruce Willis ripeto è un filmone ragazzi quindi se lo trovate prendetelo se siete collezionisti prendetelo poi ci ho fatto caso adesso mentre stavo girando scontro fra titani ce l'ho anche in questa Heroes Collection vabbè due edizioni diverse l'importante è non avercelo uguale come ho fatto con Sherlock questo disco singolo anche qui si è parlato di flop non ho capito perché questo è l'extended cut di Terminator Salvation mi è piaciuto tanto questo film che vi devo dire molto molto bello appena una virgola è fuori posto non si sa perché già si parla di flop cast molto ricco film ben fatto effetti speciali da paura non lo so a me piace molto ve lo consiglio anche mi prendo sta responsabilità poi abbiamo Hero con Jet Li anche qui Quentin Tarantino presenta dai produttori della Tigre e il Dragone che è un film che a me piace tantissimo anche qui si vede lo zampino del maestro questo dovrebbe essere un'edizione disco singolo sicuramente e infatti film molto carino poi Jet Li ragazzi è un vero maestro Quentin Tarantino sarà un maestro dietro la telecamera ma Jet Li è un vero maestro di arti marziali poi Scott Pilgrim versus the world film carino ovviamente film divertente con Michael Cera Italo-americano edizione disco singolo pagato per credo un euro forse una roba proprio sciocca vi mostro gli ultimi due film ragazzi e poi chiudiamo se no veramente dura tanto e non ve lo vedete giustamente abbiamo la Director's Cut di Beowulf a disco singolo chiudiamo ragazzi con Gamer con Gerard Butler bel film ragazzi questa versione contiene 4 ore di contenuti esclusivi ovviamente in alta definizione però in disco singolo bene ragazzi per oggi è davvero tutto spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto cliccate sulla campanellina io ringrazio nuovamente tutti i miei iscritti grazie per avermi aiutato a raggiungere e a superare questi 500 iscritti scrivetemi nei commenti ragazzi se il video vi è piaciuto se il video non vi è piaciuto curiosità quanto ho pagato alcuni pezzi dove li ho trovati qualsiasi domanda ragazzi scrivetemela nei commenti bene ragazzi dal vostro Valerio è davvero tutto io vi abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti